Io sono come vedete qua a Firenze, non sono tra i grandi elettori, sono a fare il tifo perché l'Italia possa finalmente chiudere questa pagina dell'elezione del Presidente della Repubblica e a quel punto poi cercare di dare risposte ai problemi che il Paese ha e che sono quelli che la classe politica ha il dovere di affrontare.